ciao a tutti ragazzi scusate se il primo video esce così tardi oggi il secondo video lo faremo uscire un po più tardi per dare la possibilità a tutti di recuperare anche questo ma oggi massimiliano allegri parlava alle 14 sono le 14 e 15 quindi appena terminata la conferenza stampa e andiamo a cercare di sviscerare gli argomenti principali di cui si è discusso oggi non a ipotizzare la formazione titolare perché ragazzi sarebbe veramente come tirare su dei bigliettini e dire ah ho tirato su morata bene gioca morata perché allegri non ha dato informazioni ha dato alcuni segnali diciamo così su cui poter lavorare su cui poter creare discussione ma non altre certezze se non due o tre giocatori adesso ci arriviamo come al solito mi piace ragazzi tra l'altro vi spoilerò che questa sera intorno alle 21 video in cui parlerò di alcuni rinnovi di contratto ieri abbiamo parlato di ribala ho visto che l'argomento mi ha fatto piacere ma ci sono tanti altri giocatori in scadenza da analizzare insieme e come al solito one football potete scaricare inquadrando qui questo qr code oppure passando in descrizione dove ci sarà appunto il link per scaricare l'applicazione di cui stiamo parlando proprio adesso e lì sì che invece passo dopo passo ci saranno novità di informazione e di formazione da parte di allegri arriveranno delle notizie nuove su cui potremo costruire i primi non lo so disegnini 433 442 quello che sarà scaricate one football alcune notizie appunto che leggerete su one football sono le seguenti chiellini e bernardeschi non ci saranno sono out e poi ken è squalificato io questa cosa non la ricordavo però ken a quanto pare è squalificato per la coppa italia invece ci sarà zaccaria che sta bene ha recuperato si è già allenato in gruppo e bonucci che partirà titolare perché domenica c'è una partita importante dice allegri dobbiamo capire un po il suo stato di forma quindi parte poi eventualmente verrà sostituito detto vedremo come reagirà al ritorno in campo e un altro titolare è per in quindi per in e bonucci sono due giocatori titolari allegri poi un certo punto dice aveva dato anche il terzo riferendosi a quadrado quindi con tutta probabilità giocherà pure lui e questi sono gli unici tre giocatori titolari che abbiamo a disposizione per quello che vi dico costruire oggi un'ipotetica e probabile formazione sarebbe come sparare sulla croce rossa non ci sono informazioni a riguardo allegri dice una cosa sacra santa è un quarto di finale è un obiettivo stagionale io ragazzi penso che sia quasi scontato dirlo ma la coppa italia la voglio vincere abbiamo parlato di scudetto in questi giorni abbiamo parlato di champions io scudetto e champions le considero follia giunti a questo punto per lo scudetto secondo me la rosa è attrezzata questa rosa per vincere lo scudetto ma è troppo tardi ne abbiamo già parlato tantissime volte per la champions invece vi dico che non mi sento una rosa in grado di vincere la champions poi pallone rotondo può succedere qualsiasi cosa vladimor che sembra un nome russo e guarda caso dove si gioca la finale di champions ci sono degli indizi ma poi è il campo non è l'ironia e tutte queste cose qua è il campo che decide ci speriamo la considero difficile qualcuno mi chiede ma tra campionato e champions con te cosa è più facile vincere vi dico paradossalmente la champions ma per un discorso che dipende tutto da te in champions dipende tutto da te le vinci tutte vinci la champions in campionato non dipende tutto da te perché le vinci tutte poi magari le vince tutte anche l'inter o tutto il napoli o tutto il milano e vincono loro quindi a livello proprio statistico di punteggio è paradossalmente più facile vincere la champions anche se è più complicata come competizione e dove non credo di avere una rosa adeguata quindi la coppa italia dopo aver perso la supercoppa rimane bene o male l'unico trofeo stagionale da potersi portare a casa la juventus ve lo ricordo magari lo siete dimenticati dieci anni dieci stagioni che vince almeno un trofeo in questa stagione l'unico probabile potrebbe essere appunto la coppa italia quindi non puntare la coppa italia non ritenerla una competizione importante per questa juve questa situazione juve secondo me è deleterio poi se doveste chiedermi sei disposto a sacrificare la coppa italia per vincere la champions campionato che domanda è il punto è qualcuno mi assicura che non vincendo la coppa italia poi vinco il campionato la champions no e quindi testa la coppa italia per quanto la partita domenica rimanga la più importante della settimana e qui non ci piove io la coppa italia la voglio vincere voglio alzare un trofeo perché è una cosa che vi ho detto l'ultima volta che abbiamo vinto e cioè la supercoppa con l'atalanta o la coppa italia con l'atalanta vi ho detto ricordatevi che questa sensazione di gioia di vittoria la proviamo adesso poi non sappiamo quando ancora la riproveremo io sono andato a san siro e sapete quanto ci sono stato male nel non aver vinto la supercoppa con l'inter che è un trofeo se vogliamo banale non prestigioso non importante ma chi se ne frega è una coppa e va portata a casa fa palmaresse fa entusiasmo crea entusiasmo poi perderla a san siro l'ultimo secondo contro l'inter è una cosa che mi sta anche abbastanza sulle balle quindi è vero che ci sono dei trofei di serie di tier s come la champions tier a come il campionato e poi ci sono i tier b e c che sono coppa italia supercoppa però io vorrei festeggiare almeno un trofeo quest'anno nonostante tutto ed essere una squadra che per 11 anni vince almeno un trofeo quindi coppa italia obiettivo stagionale forse obiettivo numero uno se mettiamo il focus sul trofeo proprio perché è il più facile da vincere e quello più probabile ecco diciamo così poi arrivo a disco sono disposto a semplicare la coppa italia anche solo per o scudetto o champions scegliete voi quale non c'è problema e allegri dice occhio perché il sassuolo viene da un 4 a 0 contro cui ha perso contro la san doria del maestro giampaolo saranno molto arrabbiati e poi parla internamente di juventus si dice c'è questa contrapposizione entusiasmo contro uforia che sono due cose diverse ovviamente riferendosi allo scudetto poi questo discorso allegri lo fa volontariamente nessuno gli chiede queste cose e inizia a parlarne e mi ha dato ancora la sensazione di voler abbassare i toni della serie dimenticatevi lo scudetto toglietevelo e questo rinforza ancora di più la mia tesi che vi ho portato ieri e cioè che allegri ci crede come e poi ti dice no sono più pratico sì chi vuole sognare lo faccia io non sogno sempre per ricalcare quella strada quella linea di allegri sei un bugiardo in conferenza stampa non dici mai quello che pensi anzi tutt'altro e ci arriveremo perché si incasterà più volte questo discorso proprio qui dentro e allegri dice l'obiettivo è il quarto posto qualcuno mi mi ha criticato non ho un po questa posizione di allegri dicendomi quando sento allegri che mi dice che la juve l'obiettivo è il quarto posto mi cascano le palle perché l'allenatore della juventus non può dire queste cose secondo me le può dire non le può pensare un conto e se le dice un conto e se le pensa sono due cose diverse sono due prese di posizioni differenti a livello mediatico quello che passa nella sua testa o quello che passa ai ragazzi nello spogliatoio sul campo d'allenamento sono due cose differenti quindi per me può dire quello che vuole l'importante è che non lo pensi e io sono convinto che allegri sia un bugiardo patentato non lo scopriamo oggi ce lo dice la storia ce lo dice anche il fatto che allegri si è andato avanti tutto l'anno a dire no in attacco non ci serve niente siamo a posto così morata sta facendo molto bene in quella posizione fa quello che gli chiedo poi ci torna sopra anche oggi e ti dice ma morata non è un giocatore che può giocare spalla alla porta non è incretinito ha fatto bel viso a cattivo gioco non c'è scritto da nessuna parte di essere onesti in conferenza stampanzi tutt'altro tutt'altro è anche pretattica è anche un modo come un altro di dire ai giornalisti ma allegri gliel'ha detto anche proprio face to face adesso vi dico della roba così siete contenti l'importante che voi siate contenti di quello che vi dico che non significa che ci pensa davvero vi tengo buoni e lo fa ricordatevi che allegri queste cose le fa e le ha sempre fatte è un livornese è un toscano e penso proprio che possiate capire di cosa sto parlando è una persona che ci tiene tanto anche a queste cose qua poi cosa dice vlaovic o caio dall'inizio attenzione perché ci saranno supplementari rigori quindi la partita durerà tanto anche i cambi potrebbero fare 60 minuti è proprio qua io torno sul discorso del secondo me allegri un bugiardo perché quando mi dice vlaovic o caio vedendo che caio non è partito con la sampdoria in una sampdoria disastrata che non è entrato nemmeno sul 3 a 1 per dire abbiamo dovuto fare il terzo gol di vantaggio io ritengo quanto più improbabile vedere caio dall'inizio già domani poi sono disposto a essere smentito ma quando allegri sposta al focus da vlaovic a caio secondo me lo fa proprio con la consapevolezza di dare una falsa informazione poi qua sono disposto a ricredermi anche perché poi dice caio poteva andare a giocare poteva andare addirittura al sassuolo lui ha preferito rimanere può partire titolare siamo contenti io non sono davvero convinto che sia andata così non credo che sia stato proprio caio a dire voglio rimanere alla juve proprio perché il trattamento riservato a caio fino adesso non è bello però anche qui non sta scritto da nessuna parte che un giocatore debba giocare perché è giovane un giocatore gioca se da determinate garanzie all'allenatore che caio allegri che su caio allegri non punti troppo penso che ormai sia abbastanza scontato sarei contentissimo di vedere domani al primo minuto proprio perché cavolo se non gioca nemmeno in coppa italia però ci credo poco è anche vero che in questo momento potrebbe decidere di farlo partire dargli l'opportunità e poi sostituirlo ed eventualmente far giocare davvero 60 minuti al subentrante che potrebbe essere appunto vlaovic cosa che prima non c'era prima non c'era vlaovic che poteva eventualmente risolvere i problemi a partita in corso vediamo dipende anche come sta vlaovic non dimentichiamoci che torna dal covid quindi dipende da tante cose però io vorrei butto lì sarei sorpreso di vedere caio dal primo minuto ecco sorpreso penso che sia la parola giusta poi allegri dice una cosa sacrosante ragazzi concentratevi perché questa è la cosa più bella che ho sentito uscire dalla bocca di massimiliano allegri da quando è tornato alla juventus bisogna ritornare alla normalità della juventus vincere una partita metterla da parte e prepararla successiva quante volte negli anni abbiamo sentito i protagonisti dire vincevamo lo scudetto festeggiavamo e poi eravamo già concentrati sul focus successivo sul punto successivo da inseguire e questa è stata la più grande difficoltà secondo me nel mantenere un ciclo così lungo perché vincere un conto rivincere è un altro vincere ok ma tornare a vincere più complicato e vincere 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 è qualcosa che non esiste perché a un certo punto dici vabbè io mollo qualcosina invece no allegri dice nella juve hai vinto con la partita con l'ella sverona bravissimo gli esordi gol dei nuovi una nuova area fantastico adesso c'è il sassuolo infatti allegri poi dice la partita più vicina è quella di domani non quella di domenica il focus è il sassuolo quindi ella sverona ne abbia già parlato su vicenza sassuolo finita sassuolo atalanta partita dopo partita con la concentrazione che tutte le partite sono uguali valgano tutte e tre punti o valgano il passaggio successivo alla semifinale ai quarti alla finale quello che sarà quindi questa è una frase che mi è piaciuta veramente tanto poi fanno una domanda sul tridente gli chiedono ma al tridente domani lui la prende larga e fa un discorso dice l'ella sverona era difficile uno contro uno uomo su uomo ti attaccano ti aggrediscono e per fortuna che abbiamo altre due partite simili vicine che sono l'atalanta e il torino dove avete già sentito questo discorso ebbene sì ve l'ho fatto io nelle pagelle di juventus alla sverona dicendovi attenzione secondo me il tridente non lo vedremo sempre ma lo vedremo contro atalanta e contro torino non contro il sassuolo e anche domani non mi aspetto il tridente puro i tre davanti come abbiamo visto col verona poi magari sarà un tridente con quadrato esterno e questo è un altro discorso ma quei tre lì andranno sempre secondo me schierati uomo su uomo contro i tre centrali delle squadre che giocano a tre quindi con l'atalanta e col torsi invece mi aspetto esattamente la stessa disposizione lo stesso modo di giocare proprio per le caratteristiche delle squadre che andiamo a affrontare e per cercare di mettere in difficoltà marcati uomo su uomo poi recupero palla andiamo in verticale vlaovic è un giocatore molto verticale l'abbiamo visto con la prima verticalizzazione di rabbiò il primo tiro in porta di vlaovic e possiamo far male così col sassuolo invece mi aspetto un'altra partita semplicemente perché il sassuolo approccia il calcio in maniera differente quindi con l'atalanta domenica sera si mi aspetto il tridente domani sera invece no l'igri c'è un'altra cosa importante gli obiettivi personali sono da mettere da parte qua vedo un collegamento al capo cannoniere di vlaovic l'anno scorso ronaldo ha vinto il capo cannoniere vi faccio un applauso ne approfitto ma eravamo tutti contenti no di avere ronaldo capo cannoniere però gli obiettivi di squadra sono più importanti eh sì eh sì questo è vero quindi sono disposto a sacrificare il capo cannoniere di vlaovic in cambio di raggiungere degli obiettivi molto importanti per la juve fatemi sapere se anche voi siete d'accordo su questa cosa poi nel momento in cui gli obiettivi importanti non li puoi raggiungere allora ben venga che vinca il capo cannoniere vlaovic ma la juve è più importante e sarà sempre più importante di tutti i singoli quadrado può giocare ovunque con l'uscita di culo può giocare più in alto dato che abbiamo recuperato tutti i terzini anche a destra e quindi c'è abbondanza questo è uno spoiler di domani di allegri quindi potrebbe essere 4 2 3 1 con quadrado nei tre dietro la punta immagino che sarà una roba di questo tipo poi c'è stata una domanda di romeo su locatelli gli ha chiesto ma ora con zaccaria quindi locatelli può fare la mezzala inserirsi vedete com'è fatto allegri gli fa una domanda su zaccaria locatelli lui risponde dicendo che si è andato a bentancur quindi ha preso un altro profilo e poi parla di artur e dice artur mi è piaciuto molto l'altra sera fatto bene qui e là su e giù però adesso è difficile fare delle scelte però per fortuna ci sono tanti cambi e quindi anche chi non parte la domanda è è su locatelli lui finisce a parlare di artur ne parla molto bene poi dice sì però è difficile fare delle scelte ma ci sono i cambi io questo lo leggo come artur domani non parte dall'inizio soprattutto nei confronti di un giocatore che è stato sul mercato per tutta la sessione credo che sia questo il modus operandi di allegri cercare di dire quello che gli pare a lui piuttosto che una domanda perché è come chiedergli che ore sono sì grazie un caffè lo prego volentieri cioè non c'entra niente però lui voleva dire quella roba lì e si è costruito quello che voleva dire su una domanda che aveva tutto un altro target tutto un altro focus l'è fatta che se lo dico proprio in dialetto i giocatori vanno inquadrati per caratteristiche e ci fa ancora l'esempio di morata 4-5 mesi spalla alla porta e anche qua domanda su morata lui cosa risponde risponde su rabbio per caratteristiche perché perché lui dice rabbio è stato spesso dipinto come un giocatore tecnico addirittura dice un numero 10 io non so dove da chi perché quando però poi dà un'altra risposta che ti fa capire dice rabbio è un giocatore che mette quantità poi all'interno della quantità ogni tanto la qualità viene fuori e dice rabbio se lo consideriamo come un giocatore che deve fare 27 gol 10 assist non è quello e infatti dice anch'io all'inizio pensavo potesse fare 10 gol segno che intanto ci siamo ridimensionati che abbiamo capito che giocatore è rabbio e soprattutto mi viene da dire all'inizio lo dipingevano come un giocatore tecnico un numero 10 che poteva fare gol significa che qualcuno gli ha dipinto rabbio in questo modo quando è arrivato prima di capire di vedere di allenare rabbio significa che era stato così tanto sopravvalutato rabbio da pensare potesse fare 10 gol e 10 assist in un campionato era un'affermazione che avevamo preso in giro avevamo detto dai non ci puoi credere davvero invece poteva crederci davvero a questo punto allora la domanda è ma chi gliel'ha detto chi chi gli ha fatto la descrizione di rabbio in questo modo perché significa c'è tanto il mio tanto che quando è arrivata la juve gli hanno descritto rabbio in questo modo per cortesia possiamo trovare questa persona e mettergli le manette ai polsi o comunque non farlo più lavorare nel mondo del calcio perché uno che mi dice se io arrivo sono aiutare della juventus non conosco bene i giocatori ti dico vabbè fammi una scheda tecnica rabbio rabbio talento sopraffino giocatore super tecnico numero 10 la doppia cifra io ti licenzio se poi inizio ad allenare mi accorgo che rabbio non è per niente quel giocatore non lo so mi ha fatto ridere questa cosa però anche in questo caso allegri è andato a dare una risposta che voleva dare lui su un argomento che voleva dare lui su una domanda che non riguardava assolutamente rabbio e anche in questo caso vuoi dire che sia un indizio su chi partirà domani non lo so vediamo questa è un po' l'analisi delle parole di allegri noi ci vediamo stasera con il video sui rinnovi fatemi sapere secondo voi se queste parole sono state dette per queste motivazioni o se avete trovato anche altro scavando la conferenza stampa di Massimiliano Allegri grazie a tutti